Buongiorno a tutti, oggi pago un debito di una promessa, appunto ogni promessa è un debito, a proposito della recensione sulla resa dei conti dalla seduta del Gran Consiglio al processo di Verona. È uno sceneggiato del 1969 che mi è stato suggerito qualche tempo fa e avevo promesso di vederlo, non l'avevo mai visto, ammetto questa lacuna, a mia discolpa, in realtà è presente su YouTube in due puntate da meno di un anno, quindi in qualche modo scusatemi se non l'avevo recuperato precedentemente, anche perché devo dire che sono quel tipo di sceneggiati della RAI, di argomento storico, che non sono particolarmente ripresi dalle trasmissioni più recenti, quindi sono una serie di produzioni di grande valore, non solo per l'aspetto meramente estetico, ma anche di contenuti, ma anche perché rappresentano la linea editoriale, la linea culturale della RAI nei decenni nell'affrontare delle tematiche legate a momenti particolarmente drammatici, come potevano essere quelli del ventennio fascista o quella della seconda guerra mondiale, in un periodo come gli anni 60, gli anni 70, in realtà anche negli anni 80 abbiamo visto di sceneggiati di questa tipologia che inquadrano in maniera molto valida, molto efficace, riuscendo a combinare una connotazione di verosimiglianza storica, quindi comunque dei contenuti che non sono banali, non banalizzano, non rendono superficiali gli argomenti trattati, ma allo stesso tempo sono delle produzioni che si rendono fruibili, non sono particolarmente noiose. Oggi probabilmente potremmo ritenere letali perché sono invecchiati, stiamo parlando di un'opera di 54 anni fa e va da sé che il tipo di sceneggiati, anche perché non si chiamano neanche più sceneggiati, si chiamano fiction, quindi vediamo che anche nel modo di chiamarli hanno acquisito una diversa capacità espressiva. Ovviamente quello era in bianco e nero, aveva anche una sua connotazione teatrale, e lo diremo. Dicevo, è una produzione RAI del 69 per la regia di Marco Leto, Marco Leto tra l'altro figlio di un funzionario, Guido Leto, funzionario della polizia di epoca fascista, quindi in qualche modo abbiamo anche questo elemento curioso, che lo abbiamo in realtà già incontrato perché è stato anche il regista delle radiose giornate, che è stato un altro sceneggiato, ovviamente riferito a poco prima, stiamo parlando del periodo della neutralità italiana del periodo 14-15, un sceneggiato del metà degli anni Ottanta, che trovate sia su YouTube ma trovate anche la recensione che io vi ho dedicato qualche tempo fa, quindi un regista prettamente televisivo, ma che secondo me è riuscito in maniera più che dignitosa nella rappresentazione di delicati temi, dei momenti particolari della storia recente italiana, appunto quella del Novecento, a maggior ragione più recente rispetto a quando sono state realizzate queste opere, che si inquadra all'interno appunto di un discorso di divulgazione di ricordo e di memoria. La sceneggiatura è opera di Luigi Lunari, anche egli un professionista più legato al teatro e notiamo come molti di questi sceneggiati, le radiose giornate ma anche altre tipologie di sceneggiati di quel periodo risentono molto di un approccio teatrale, che per carità non è un difetto, non è un difetto, però oggi per uno spettatore di oggi potrebbe essere un difetto, perché? Perché ha dei ritmi diversi, dei ritmi molto più legati alla capacità recitativa, rispetto a un approccio più di dinamica, che ovviamente siamo abituati oggi con anche gli effetti speciali, l'utilizzo di tecniche molto più elaborate, e andremo a fare anche un commento rispetto alle ultime produzioni RAI legate a temi importanti, pensiamo al film della TV su Baracca, a quello sul mini da Ignoto, quella scelta di Maria che appunto hanno la pretesa, o forse non ce l'hanno la pretesa, nel senso che hanno il desiderio di rappresentare un qualcosa di sperimentale attraverso delle tecniche combinate tra l'elemento prettamento recitativo, degli elementi che sembrano quasi delle interviste, apocrifi ovviamente, e poi degli elementi molto più legati all'utilizzo di animazioni, di cartoni animati, che appunto cercano magari anche di combinare il budget ridotto e l'utilizzo di strumenti più tecnologici, che magari potrebbero intercettare l'interesse dei più giovani. Ecco, secondo me, lo diciamo subito, se avete avuto modo di vedere le recensioni che ho fatto alle produzioni ultime della RAI, appunto quella su Baracca, e quella alla scelta di Maria sul mini da Ignoto, sapete bene come sono stato particolarmente severo, non mi sono piaciuti, o mi sono piaciuti solo in parte, e allo stesso tempo, forse per una mia inclinazione ad apprezzare più le cose vecchie rispetto a quelle nuove, invece trovo che gli sceneggiati, come in questo caso la Rese dei Conti, combinano meglio l'elemento eclettico della loro composizione. Mi spiego meglio. La Rese dei Conti inquadra il periodo, in due puntate dicevo, in due puntate, il percorso che dalla seduta del Gran Consiglio del Fascismo 24-25 luglio 1943 arriva al processo di Verona, che si sviluppa tra l'istruttoria nel dicembre del 1943, poi l'elemento più pregnante all'inizio di gennaio, nel corso di gennaio del 1944. Ebbene, le due puntate, che sono legate essenzialmente la prima alla seduta del Gran Consiglio, la seconda alla parte successiva del periodo della Repubblica Sociale, eccetera, combinano insieme la parte recitata, quindi l'elemento di confronto, di finzione, pure semplice, nell'elemento dello scontro anche tra i personaggi, e qui devo spezzare una lancia nei confronti di eventuali critiche che sono state rivolte a questo sceneggiato, dicendo che sostanzialmente è molto bozzettistico, molto semplicissimo. La consulenza è stata fatta da due importanti storici, Renzo De Felice e Gabriele De Rosa, quindi diciamo che abbiamo anche un retroterra di ricerca storica, di approfondimento, non da poco nell'analisi dei personaggi, nella cura dei dialoghi, che seppur non sempre ovviamente aderenti, abbiamo all'epoca sicuramente, ho letto alcune critiche dicendo che si basa ovviamente su delle ricerche a proposito del 25 luglio legate a più di 50 anni fa, mentre oggi la storiografia è progredita, abbiamo molte ricerche successive, pensiamo al libro di Emilio Gentile, ma secondo me, nonostante appunto la storia in questi 54 anni abbia fatto molti progressi, o dicevo, nonostante ciò, l'inquadramento secondo me di rappresentazione e la finalità che uno sceneggiato di questo tipo poteva avere, secondo me, ancora può essere valido. Dicevo, c'è la parte recitata e si combina con un'altra doppia parte in cui sostanzialmente un presentatore, un giornalista di cui non sono riuscito a capire come si chiama, però diciamo che poco importa, poi se lo sapete voi me lo commentate, che parla in prima persona, parla egli nel presentare i momenti anche di raccordo tra una scena e l'altra, un atto e l'altro di questa rappresentazione teatrale, quasi teatrale, in televisione, e una interazione con il palco, con il palcoscenico, in cui un altro giornalista intervista direttamente gli attori che stanno, che sono in procinto o hanno da poco interpretato i propri ruoli. Qui sostanzialmente vengono intervistati gli attori e gli attori, con indosso ancora, o già i vestiti della parte che interpreteranno, o già hanno appena interpretato, raccontano il proprio personaggio, elencandone sia pregi e difetti, più difetti che pregi, e anche l'importanza, la caratterizzazione del loro lavoro nell'interpretazione. Alcuni dicono, beh, c'era Tizio che aveva una sua connotazione particolare, non era pienamente consapevole o era pienamente consapevole, e quindi interpretarlo è stato facile, difficile, ho avuto in qualche modo gli elementi in questo senso. Quindi secondo me questo trittico, ossia la parte meramente recitata, la parte di narrazione esterna, e la parte mista, possiamo dire, in cui c'è un giornalista che interpreta, un intervistatore che, scusate, che intervista l'attore mentre sta per recitare, e lo intervista in maniera terza, nel senso che non intervista il personaggio, ma intervista l'attore che interpreterà, o appena ha interpretato il personaggio, secondo me acquistano un elemento di gradualità e di più piani di lettura, che è un valore aggiunto. Quindi questa cosa io l'ho apprezzata, alcuni l'hanno criticata, io invece l'ho apprezzata. Per quanto riguarda la recitazione, allora, abbiamo sicuramente un cast molto vario, molto valido, nel panorama cinetelevisivo dell'epoca. Io direi, commenterei alcuni che mi sono, diciamo, apparsi rilevanti, tra cui, appunto, Ivo Garrani, che interpreta Mussolini, con una capacità molto positiva, nel senso, nella capacità di interpretarlo, ovviamente. Quindi l'ho trovato convincente. Tra l'altro, una cosa curiosa è che lo stesso Ivo Garrani, pochi anni prima, aveva interpretato Farinacci nel film Il processo di Verona. Quindi abbiamo anche una... Ho letto una promozione, è stato promosso Ivo Garrani in questi anni. Quindi, sicuramente, ha dato anche un piglio di grande energia. Mussolini, diciamo, che in questo periodo, tra il 24 luglio e il periodo del processo di Verona, non aveva tutta quella forza fisica e di impositiva di riuscire a determinare le sorti dell'Italia, a meno che mai quella del processo di Verona. Quindi, in qualche modo, ha anche una sua evoluzione, diciamo, diminuendo. Però, secondo me, Garrani riesce molto bene a evidenziarla. E allo stesso tempo anche Mario Feliciano, un altro validissimo attore dell'epoca, che interpreta, appunto, Farinacci, quel ruolo che pochi anni prima era stato Garrani a interpretarlo. Un, invece, un attore che convince poco è Franco Parenti, nella parte di Pavolini. Pavolini, che intanto risulta essere più giovane rispetto all'interpretazione che gli viene data, Pavolini ha 40 anni. Pavolini, e l'attore sembra molto più vecchio. Oltre al fatto che Pavolini è toscano, e invece l'intercalare dell'attore di Parenti risulta un po' più del nord Italia, un po' più emiliano, diciamo, della zona, diciamo, al di sopra della linea gotica, passatemi il termine. E quindi, secondo me, l'interpretazione di Pavolini non è abbastanza coerente con l'idea che ci si può fare di Pavolini. Nel senso che l'idea di Pavolini è di un'idea di un giovane, non è corretta, a 40 anni all'epoca non si era giovani. Però comunque, nella componente di inframmezzo tra elementi di recupero di quel fascismo che era stato messo da parte, Pavolini ha avuto un periodo di pausa dopo appunto il crollo, diciamo, a fine inizio del 43, con l'ultimo grande rimpasto del governo Mussolini, ebbene era stato messo da parte dopo un periodo di grande fortuna alle spalle di Galeazzo Ciano, erano comunque coetanei, erano comunque entrambi toscani, ecco, e qui abbiamo ovviamente la nemesi in cui Pavolini poi, diciamo, rinnega qualsiasi benemerenza, qualsiasi amicizia con Ciano e lo porterà a morte. Ecco, secondo me, l'interpretazione dell'attore che interpreta Pavolini non mi ha convinto molto. Invece mi hanno convinto molto due ruoli comprimari, ossia quelli di Di Perego nel ruolo dell'informatrice, diciamo, della tedesca, che cerca di carpire informazioni a Ciano, e Max Turilli che interpreta una guardia in carcere, quindi diciamo che Turilli, sappiamo che è stata una garanzia, l'ho fatto anche, ho dedicato anche un video su di lui, un grande caratterista che ha interpretato moltissimi ruoli del tedesco, con una sua anche parlata germanico-marchigiana particolarmente convincente nella sua polietrica attività di attore, ma anche di doppiatore, perché poi ha fatto anche moltissimo il doppiaggio, sicuramente di grande valore. Da ultimo, in qualche modo ho cercato di dare una descrizione molto trasversale di queste due puntate che si completano a vicenda, in cui si riesce bene ad abbinare, e una cosa che ho trovato particolarmente interessante, che mancava o non era completamente presente nel film, il processo di Verona, o almeno l'ho trovato più convincente qui, mi ha convinto molto di più, è l'analisi giuridica del processo, in cui sostanzialmente la parte, il giudice istruttore, o comunque tutta la componente che si appresta a avviare questo dibattimento e poi la sentenza, si creano non tanto degli scrupoli morali, perché poi alla fine non c'è una questione di scrupolo morale, è questo di tecnicismo, in cui sostanzialmente dice, dobbiamo, nonostante siamo ovviamente in una dittatura, in una realtà completamente viziata, sotto ogni punto di vista a livello giuridico, ma dobbiamo, essendo noi dei giuristi che comunque abbiamo votato o dovremmo aver votato la nostra vita al senso della legge, non possiamo prescindere dall'applicazione e dall'evidenziare come eventuali leggi siano in contraddizione e siano assolutamente incomplete, assolutamente anacronistiche. Tant'è che appunto c'è la definizione che è stato istituito il processo per giudicare i responsabili della caduta di Mussolini per il quale è prevista una serie di pene. Allora dice, ma se, appunto poi è ex post, nel senso che l'avvenimento già c'è stato, quindi dice, ma sostanzialmente noi andiamo a giudicare delle persone che hanno già fatto qualche cosa e già nella legge c'è determinata la pena. Dice, a che serve il processo? Nel senso che se già è evidente e quindi già c'è una fattispecie che è specifica, non è più una fattispecie perché è concreta la collocazione per quelle singole persone, quindi in qualche modo il processo non serve a niente e quindi alla fine si trova tutto un artificio in cui si dice no, però dobbiamo in qualche modo accertare le condizioni che hanno portato questo e però alla fine le condizioni sono comunque personali. Alla fine sostanzialmente, a parte Cianetti, appunto che viene condannato a trent'anni, tutti gli altri o in contumacia o in presenza vengono condannati a morte e quindi non vi è una reale attenzione alle dinamiche, alle capacità, alle opportunità, al pensiero, alla premeditazione dell'evento, votazione all'ordine del giorno grandi, uguale defenestrazione di Mussolini, uguale caduta del fascismo e in realtà poi alla fine questo si verserà sostanzialmente poi un ennesimo processo farsa, un ennesimo processo facciata in cui sostanzialmente bisogna accontentare qualcuno, ossia l'elemento più facinoroso che non si accontenta neanche più solo dalla testa di Ciano perché poi alla fine quello viene a evidenziarsi, cioè l'idea che è condanniamo Ciano e in qualche modo abbiamo salvato la faccia e abbiamo risolto, abbiamo dato il contentino e noi c'è no, alla fine bisogna condannare tutti quanti perché se condanniamo Ciano dobbiamo condannare tutti, compreso De Bono che ormai era veramente lì lì per morire, tant'è che appunto ironicamente avete anticipato di poco la mia morte naturale. e poi tutto l'elemento caricaturale e questo si evince proprio il bizantinismo del sistema anche un po' italico, della deresponsabilitazione, si è fatta sostanzialmente il processo, la condanna e non si sa chi debba provvedere a inoltrare le domande di grazia e quindi nessuno si prende la responsabilità e quindi si cerca di fare un casolta di carosello per trovare il, come si dice, in gergo non mi riferisco alle persone specifiche l'utile idiota, nel senso che dobbiamo trovare qualcuno che si piglia questa gatta da pelare perché appunto nessuno si prende la responsabilità di prendere in carico le domande di grazia e sostanzialmente poi non farci nulla. Quindi in qualche modo, anche questo, un elemento di finzione giuridica che si rivolta contro gli stessi personaggi e qui questo è un elemento molto interessante in cui si vince poi alla fine come alla fine l'ultimo che rimane cioè me ne prendo io in carico perché mi rendo conto che qui stiamo veramente stiamo rasentando neanche la farsa perché la farsa già è arrivata oltre la farsa quindi in qualche modo veramente è un elemento che anche di chiamare grottesco appare fari di un complimento. Quindi secondo me è un sceneggiato di grande valore che seppur ha perso negli anni un certo appeal una certa sua predisposizione all'essere completamente apprezzabile sotto l'aspetto meramente estetico invece conserva molto del valore non solo divulgativo ma anche di un qualcosa di informare e questo secondo me si fa ricollegare con la critica io rivolgo molto spesso a quelle opere più recenti negli ultimi 15-20 anni che vengono fatti delle fiction legate a temi storici o pseudostorici che in realtà però banalizzano molto e ci sono molto fatti pret-à-manger nel senso che servono sostanzialmente per imbonire per divertire per far passare tempo a un pubblico poco sofisticato che accetta sostanzialmente tutto e non solo e questo è poi il problema non solo accetta qualsiasi cosa ma accetta per buono qualsiasi cosa e poi pretende attraverso la sola visione di quei prodotti televisivi di sapere cosa è accaduto e poi parla scrive magari fa dei commenti pure sui social e dice un sacco di bagianate ecco questo secondo me è poi il danno che viene fatto da una certa una certa produzione televisiva molto molto a ribasso solo per acchiappare per acchiappare spettatori per acchiappare finanziamenti pubblici vabbè lasciamo perdere e per acchiappare poi anche sponsor televisivi e chi più ne ha più ne metta detto questo come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao